Tanti auguri di una buona Pasqua 2017 da Citroen 2 cavalli vapore 6 saffetti caro official car raduni autostoriche Italia macchina di sicurezza scorte tecniche apripista raduni dati di oggi 2045 auto scortate se volete seguiteci su facebook 2 official page youtube daily motion twitter www.youtube.it channel raduni autostoriche ed eventi motoristici